Ok. Hai portato via tutte le tue cose, tutti i tuoi vestiti. Vattene a casa, torna a casa. Fino a quando pensi di nasconderti qui? Perché stai facendo questo? Ti stai nascondendo? Hai sbagliato. Lei è morte, da questo non puoi nasconderti. Io non mi nascondo. Ho finito. Ho finito di operare. Ah, ok. Allora ti arrendi. Dovresti capirlo meglio di chiunque altro. Tu hai scritto il manuale della resa e della fuga e del nascondersi. Hai scritto tanti libri. Sarà anche vero, ma sono qui adesso. Sei qui adesso? Mi volevi fuori di casa appena ci sono entrato. Non è affatto vero. Sei incapace di sopportare qualsiasi cosa che somiglia a un impegno. Mi hai mentito. Hai detto che stavi bene, che eri guarita. Tu non puoi guarire. Tu sei marcia. Derek Shepard, tu sei ubriaco. E sei arrabbiato. E visto che io ci sono passata, ti capisco. Ma questo non ti dai. Non puoi stare lì e continuare a dirmi. Se è questo che vuoi, te lo dico chiaro. Vattene. Non andrò da nessuna parte. Ho detto vattene, Meredith. Vattene via. Io so dell'anello. Cosa? Il capo me l'ha detto. So dell'anello. So dell'anello. Vuoi l'anello? Ecco il tuo anello. Ogni chirurgo ha un'ombra. È tutto quello che sai fare. Perché io non me ne vado? Noi due stiamo insieme. Vattene a casa, Meredith. E l'unico modo per liberarsi di un'ombra è spegnere la luce. Smettere di fuggire all'oscurità. E affrontare ciò di cui si apre.